E' in cima alla lista del decalogo emanato dal Ministero della Salute per le regole da seguire per evitare il contagio da coronavirus. Al punto 1 si legge lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica. Ma come si lavano in modo corretto le mani per assicurarsi una perfetta igienizzazione? Non certo nel modo frettoloso e rapido a cui siamo stati abituati fino ad oggi nella nostra quotidianità. Anche qui però ci viene incontro il Ministero della Salute che descrive la procedura corretta da eseguire presa naturalmente in prestito da quella che eseguono gli operatori sanitari. Innanzitutto lo sfregamento e l'operazione non deve durare meno di 40 secondi, se poi arriviamo a 60 ancora meglio. Con il gel a base alcolica invece saranno sufficienti almeno 30 secondi essendoci qui un disinfettante. Si parte bagnandosi le mani sotto il rubinetto, si prende un po' di sapone dal dispenser e poi si inizia sfregando i palmi delle mani, poi si procede ai dorsi di entrambe le mani. Dopodiché negli spazi tra le dita anche i polpastrelli devono ricevere un'adeguata attenzione strofinandoli tra loro. Così come anche i pollici opponenti verranno frizionati uno per uno. Infine anche le unghie dove lo sporco e quindi i batteri si annidano più con facilità vanno sfregate in modo circolare contro il palmo della mano. Per ultimo dopo essersi risciacquati le mani sotto l'acqua con le salviette chiudete il rubinetto con queste prima di buttarlo nel cestino. A questo punto avremo le nostre mani ben pulite.